la domanda che abbiamo fatto a tutti iniziamo con questa è di raccontarci di te da piccolo come eri da piccolo ero un mezzo delinquente infatti ero la preoccupazione di casa mia ne fatte di cotte di crude addirittura mettendomi a cavallo sul balcone di casa al secondo piano perché perché vedevo magari come sono film del far west vede un cavallo e allora pensavo di da ragazzino di mettermi a cavallo sulla ringhiera e quindi con tutte le ansie le preoccupazioni di mia madre quando poi se ne accorgeva beh io ho fatto di peggio meglio non raccontarlo non vorrei qualcuno per spirito di umidità di emulazione le tutte di roma si romano di roma per quanto mi sforzo di di parlare anche in italiano ma insomma la calata la calata del romano c'è che zona san pietro adesso prima sono cresciuto in un quartiere periferico e poi diciamo da diversi anni mi sono trasferito a san pietro vicino la figura a cui ti sei ispirato se c'è stata beh modelli modelli italiani ce ne abbiamo avuti tanti sicuramente per noi allenatori diciamo che i vari Ettore Messina e Scariolo che sono stati sicuramente gli allenatori sono gli allenatori più rappresentativi in italia non solamente per quello che hanno fatto in italia ma anche per quello che hanno fatto all'estero sono stati un modello per tutti i giovani allenatori o i coetani perché più o meno abbiamo la stessa età e però sicuramente per me c'è stata l'incisività dei sette anni di lavoro con come assistente di Attilio Caglia e quindi questo è stato estremamente formativo se non avessi lavorato nel mondo della palla a canestro che cos'altro avresti voluto fare beh avevo una carriera aperta come carabiniere come ufficiale dei carabinieri e quindi ricordo con piacere quando il generale di divisione mi chiamò per propormi di andare in accademia a Modena e a vent'anni gli dissi insomma la faccio breve perché la cosa andò avanti qualche giorno gli dissi guardi io farò l'allenatore professionista di palla canestra avevo vent'anni il generale ovviamente rimase un po' così perplesso della mia risposta ma già a quell'età avevo le idee chiare probabilmente è stata fortuna mia per fatto l'allenatore di palla canestro perché per come sono di carattere che non transigo su quello che vedo che non va nella direzione giusta forse non starei qua ma magari sarei in qualche lapide di qualche cimitero quindi probabilmente andrà meglio così hai rifiutato il posto fisso ti faccio i complimenti perché questo bene ho rifiutato di diverso allora ti apro ti apro uno scenario su questa cosa perché ho vinto un concorso in ferrovia come dirigente tecnico non ci sono andato ho vinto il ho fatto l'ISEF e sono diventato l'insegnante educazione fisica non ci sono andato potevo lavorare con il mio diploma di periodo industriale nell'azienda dove mio padre è andato a fare negli ultimi anni amministratore di regalo non ci sono andato ho fatto quello che volevo fare invece da buon romano hai un piatto preferito che la carbonara credo che sia così sotto gli occhi di tutti ma sicuramente i piatti tipici della cucina romana e quindi la trippa la coda la vaccinara e rigatoni con la pagliata insomma ne abbiamo sicuramente buone come ne avete tantissime voi qui in sicilia canzone preferita beh quelle di di attonello venditti sicuramente di tutti i cantatori italiani lucio dalla ma anche ma anche stranieri insomma non sono come dire chiuso in una in un ambito quindi da dei supertramp fin floyd e eagles oppure la musica classica con mozart sicuramente in testa ma non senza di sdegnare i nostri che possano essere cominciando da rossini o le stagioni di vivaldi quindi direi che è un parco molto ampio il calcio lo serve la roma assolutamente si con tutte le nostre vicende non ultime quelle di dell'allontanamento di murigno ma insomma voglio dire siamo stati tutti quanti ammaliati da quello che è stata la figura di murigno e quello che il fatto di un allenatore così importante che scegliesse di venire a roma che fosse stato convinto di venire a roma dispiace per questa situazione ma dispiace anche il fatto che la roma negli ultimi tempi sicuramente non è stata splendida e quindi non conoscendo i particolari all'interno non so neanche dire se sia stata la scelta giusta o meno e sicuramente la qualità del gioco e risultati sono stati un po' deficitari per probabilmente per poi arrivare a questa conclusione ma dico anche che ci sono tanti risvolti che non conosciamo non ultimi le dichiarazioni di Iago Pinto che con largo anticipo ha detto che lui il 4 febbraio se ne sarebbe andato e quindi già questo faceva capire che se tu te ne vai da un progetto importante in una città importante probabilmente ci deve essere qualcosa dentro che non funziona non mi viene da sorridere che ti ho fatto la domanda sulla roma secondo me qua potremmo parlare tre ore perché sei romanista convinto assolutamente si sono romanista da da sciarpa dello stadio gli ultimi tempi da curva sud grazie all'amicizia con presidente malagò la fortuna di poterlo vedere in tribuna d'onore però sono cresciuto come curva sud con il commando ultra curva sud e le prime due cose che ho messo a casa qui a quelli gento quando sono arrivato ho aperto la valigia ho tirato fuori le due sciarpe della roma che zona abiti a qui abito ma non lo so in pravasi lo dobbiamo dire non lo diciamo non c'è il problema che ti arriva non è un problema io non ho paura di nessuno però credo che a pochi interessi dove abito chiudiamo con la roma solo dei rossi l'avresti scelto capitano futuro non entro in particolare dal punto di vista così emotivo di sentimento probabilmente la scelta giusta mi verrebbe dire da romano un po paracula dall'altra tecnica un allenatore senza esperienza però come tutti se la farà il film preferito beh dal punto di vista così coreografico sicuramente c'era una volta in america ma direi anche non so mister da fire piuttosto che quelli storici che hanno segnato anche la nostra cultura è quello che noi abbiamo vissuto e credo che sia di assoluta come dire coniuganza con la realtà vostra cento giorni a palermo oppure tutto quello che c'è stato sulla storia di falcone barsellino e borsellino quindi diciamo che spazio un po anche lì un po 360 gradi mi mi intriga e mi fa piacere conoscere o entrare nelle pieghe di quello che ancora oggi non abbiamo capito delle cose che sono successe però mi piace anche cose che siano leggere da poter passare una serata in serenità senti sappiamo che a tempo libero ne avete veramente poco ma quando c'è che cosa fai cosa ti piace fare ma guarda se la telecamera lo inquadra la bicicletta è lì e da quando sono arrivato ancora devo montare le ruote e i pedali quindi questo sta a significare veramente tempo ce n'è poco una volta andava a correre era un buon un buon corridore sia per per le distanze che l'impegno oggi per problemi di cartilaggine al ginocchio posso andare solo in bicicletta e poi tempo libero mi piace studiare l'inglese qui ho la fortuna di poter come dire arricchire la mia cultura e quello che è la mia parte da da uomo ignorante nel nel cercare di approfondire quello che voi avete qui a disposizione che credo che sia veramente tanto non solamente per gli occhi ma anche per arricchire il sentimento di quello che è la storia che voi avete vissuto con quello che avete tu in siciliana sei già stato è stato a trapani o diversa trapani e barcellona ti dico sono due piazze di palla a canestro un po diversa rispetto agrigento anche come città come caratteristiche ma di agrigento che cosa hai visto che cosa ti piace di più beh al momento visto veramente poco visto la strada che va da casa mia da agrigento per per arrivare al palamoncata quindi grazie al manager presidente mi hanno portato un po in giro ma più che altro per così per prendere un caffè o mangiare qualcosa insieme e quindi adesso ci sarà tempo sicuramente anche per fare due passi per la città e apprezzare quello che di buono voi avete che cosa non rinunceresti mai nella vita beh alla salute e alla famiglia perché senza la salute non vai da nessuna parte tutto quello che che uno quotidianamente pensa mi manca questo mi manca quello sono stato sfortunato per questo o per altro poi uno dovrebbe un attimo sedersi e riflettere per dire ma io la salute che altri non hanno e posso decidere della mia quotidianità quello che voglio cosa che altri non hanno la libertà di poter fare quindi sono sicuramente sicuramente fortunato e poi la famiglia perché credo che la famiglia sia la cosa come si dice il rifugio di tutti quanti io sono un felicemente divorziato lo dico con grande rispetto della madre di mio figlio ma le cose le vicende della vita vanno non sempre come uno potrebbe pensare però ho un figlio di 28 anni che vive da cinque anni all'estero in irlanda come ingegnere informatico e quindi lui è un bel punto di riferimento ho la fortuna ancora di avere mia madre che ha 80 quasi 90 anni e quindi anche lei me la quando posso me la cocco è una sorella insomma e tante altre familiari ai quali sono attaccato affezionato tuo figlio cosa ti ha detto quando hai accettato agrigento mio figlio mi ha sempre seguito in tutto quanto e quindi lui come io ho grande rispetto delle sue scelte lui ha sempre avuto rispetto delle mie e quindi mi ha detto se hai scelto questo significa la cosa giusta da fare progetti per il futuro aspetta prima che dobbiamo seguire qua la scaletta ci sono tre aggettivi per definirti pignolo puntiglioso usate quello che volete sono dei pregi questi beh non lo so ognuno dipende c'è chi li vede con un pregio e con un difetto perché magari essere pignolo e puntiglioso la traduzione per qualcuno significa che sono un rompi scatolo sono una persona molto esigente con me stesso in tutto quello che faccio lo faccio al massimo dell'impegno e se non posso farlo non lo faccio e quindi mi aspetto che chi è intorno a me viaggi più o meno alla stessa velocità perché se lo faccio io a 60 anni diciamo che quelli che sono intorno a me sono sempre mediamente sempre più giovani di me e quindi non c'è ragione perché non viaggino per le loro competenze al massimo grande rispetto di tutti quanti e quindi sono il primo a dare rispetto perché poi lo pretendo so stare al posto mio ma se uno mi rispetta mi pesta piedi gli salto al collo come dico metaforicamente però il senso è questo sempre con educazione ma so come saltare al collo delle persone come ti vedi nel futuro e mi vedo già con i capelli bianchi e con qualche acciacco però con tante cose ancora da imparare sono ossessionato dal fatto che bisogna bisogna sempre arricchirsi di quello che uno ha perché non c'è non si finisce mai di imparare questo in tutto nel nei rapporti relazionali nella nella cultura nella conoscenza di altre cose che per esempio è qualche anno che sto studiando pianoforte è una cosa che mi mi intriga ma sempre intrigato e nonostante la mia veneranda età a 61 anni quasi 61 sto cercando di aprire anche lì una finestra sul mio scenario grazie grazie a marco calvani e buon lavoro grazie a voi e forza grigento a munì